salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro ryukin 05 non faccio video discorsivi però credo che sia il momento di farli e parlare di questo argomento ovvero le dimensioni della vasca per dei pesci rossi o degli oranda e quanti litri ci vogliono a pesce però prima di cominciare con il video vorrei dirvi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e spero che il video vi piaccia e vi auguro una buona visione allora si sente parlare molto spesso di pesci rossi che vivono in acquari non adeguati per esempio bocce che non fanno per loro e c'è però una netta differenza ci sono due tipi di pesci ovvero i pesci rossi normali ovvero i carassi che sono pesci che hanno delle dimensioni molto più grandi come shumbunkin i gikini wakin i pesci rossi comuni o i cometa questa varietà ha bisogno di un litraggio molto più grande infatti come potete vedere nell'immagine hanno bisogno di circa 40 galloni ovvero circa 150 litri per pesce poi invece è presente un'altra varietà fatta dall'uomo che sono appunto pesci più cicciotti e più colorati conosciuti anche come pesci fantasia tra questi ci sono tutti i nostri pesci preferiti come oranda rancho e lion head e questi pesci vogliono dimensioni un po più ristrette e vivono bene in 20 galloni che sono più o meno 76 litri per pesce ma in realtà non è proprio così infatti c'è una specie di regola chiamiamola la regola d'oro per il pesce rosso ovvero che sono 75 litri iniziali per il primo pesce più 30 litri aggiuntivi per ogni secondo pesce appunto per ogni pesce aggiuntivo e ora andiamo a parlare delle dimensioni della vasca e parlando dei pesci fantasia le dimensioni di una buona vasca possono partire da 120 centimetri di lunghezza 50 di larghezza e 50 di altezza invece i pesci rossi comuni andrebbero tenuti in 200 centimetri di lunghezza 60 di larghezza e 60 di altezza e un'altra raccomandazione che posso darvi è non fate affidamento su quello che dicono i negozianti perché spesso per vendere vi dicono che magari in un 200 litri potete mettere 30 oranda ma non è così oppure che potete mettere 5 pesci rossi in un 100 litri beh non è che non lo possiate fare ma dovete aumentare i cambi d'acqua infatti i cambi d'acqua sono essenziali per questi pesci perché sporcano inquinano molto e appunto le scorie che producono gli escrementi a loro interno hanno degli ormoni che ne disturbano la crescita e quindi li bloccano ne bloccano la crescita ma contengono anche dell'ammoniaca che è molto pericolosa perché appunto può distruggere e fare dei danni sia al cervello ma anche alle branche dei pesci stessi quindi la mia raccomandazione è provate a dare le stesse dimensioni le dimensioni giuste ai pesci in modo appunto che non soffrano si possono mettere certo si possono mettere molti più pesci del dovuto perché molto spesso si fa ma dovrete aumentare i cambi d'acqua e avendo un litraggio così importante non sarà molto semplice quindi vi consiglio di prendere le giuste precauzioni magari di spendere un po di più ma prendere una vasca in cui i vostri pesci possano vivere al meglio possano vivere bene come appunto dovrebbero vivere spero di esservi stato utile che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per il supporto che mi state dando spero che questo canale riesca a crescere piano piano grazie a tutti al prossimo video